Una giornata da Miss, baciate dal sole, bagnate dallo stupendo Mare Milazzo e fotografate da Lorenzo Porretta. Effettivamente sì, lo scatto che bisogna cogliere è l'attimo. Uno scatto che cos'è? È l'attimo che precede l'impatto emotivo, io dico sempre questo, sì. Tu sei voluto tornare qui all'hotel Garibaldi? Già ci sono stato con un'altra Miss e quindi mi piace il luogo, mi piace la location, mi piace anche la scenografia che c'è, mi piace fotografare in questo posto. Il pianeta blu rappresenta l'origine della vita ed energia e serenità, è così ospite della Seven Sailing di Milazzo, specialisti in escursione con le barca a vela, le Miss Regenette d'Italia e le Miss Regenette Over hanno trascorso un pomeriggio da ricordare. Grazie a tutti, bellissima giornata, veramente una giornata spettacolare, divertente, in bellissima compagnia, grazie per questa magnifica esperienza, è stata davvero meravigliosa. Ma tu consiglieresti alle tue amiche, alle signore della Sicilia di partecipare a questo concorso? Allora io lo consiglio vivamente perché io mi sono messa in gioco, mi diverto, mi faccio un sacco di foto e mi trovo bene. Ho trovato anche delle amiche fuori zona e sono davvero felicissima, anzi saluto a tutto, ne approfitto per salutare a tutte le mie amiche Siracusa, Ragusa e Catania. Un cocktail di emozioni, emozioni comunque uniche perché comunque ho attraversato una bella giornata di relax, assieme a un bellissimo gruppo ed è stato fantastico. La finale nazionale Miss Regenette d'Italia è imminente, le Miss che rappresenteranno la Sicilia orientale non vedono l'ora di diventare grandi protagoniste. Miss Regenette d'Italia è anche questo, te lo aspettavi? Non me lo aspettavo, pensavo ci fosse più competizione e fosse un clima un po' più, cioè meno comunque amichevole, meno divertente insomma. Miss Regenette è anche questo, io pensavo, sì allora me lo aspettavo un po', però comunque oggi ho avuto la conferma vera e propria, Miss Regenette non è solo concorso di bellezza ma anche divertimento. Sto scoprendo, sto facendo nuove esperienze, non mi aspettavo nulla di tutto questo e sono molto contenta. In attesa delle prossime selezioni che si svolgeranno a Naso il 29 luglio e a Broli il 2 agosto, le Miss si godono le bellissime giornate calde dell'estate. Le iscrizioni sono gratuite e aperte a tutti coloro che hanno il desiderio di affrontare la passerella più ambita d'Italia. Grazie. Grazie.